Prima riunione lunedì prossimo 15 novembre del nuovo Consiglio regionale della Calabria uscito dalle urne il 3 e il 4 ottobre scorsi. Tre punti all'ordine del giorno della seduta che inaugura la dodicesima legislatura. L'elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti, dei consiglieri segretari e dei questori. Il Presidente del Consiglio regionale che secondo quanto anticipato dal Presidente della Giunta Roberto Chiuto all'atto dell'ufficializzazione del nuovo esecutivo spetta la Lega. Il nome più accreditato è quello di Filippo Mancuso. Viene eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assise. Nel caso in cui dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza richiesta è sufficiente che nel terzo scrutinio da tenersi il giorno successivo si ottenga la maggioranza degli eventi diritto. Qualora nemmeno nella terza votazione si ottenga la maggioranza richiesta si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati in precedenza più votati. Ad essere proclamato in questa circostanza sarà il consigliere che otterrà la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano d'età.